Alla lista degli sciacalli si è aggiunto ieri un nome illustre di un eminente esponente politico, campano, manco a dirlo, tale Luigi Di Maio. Luigi Di Maio era fra quelli che facevano la campagna elettorale un mese e mezzo fa, ma contestando alla regione campania il delitto di aver realizzato le terapie intensive, l'ospedale modulare nell'ospedale del mare a Caserta e a Salerno sprecando il denaro pubblico. Questo è un esponente di governo che avrebbe dovuto impegnarsi per fare arrivare il personale che manca. Questo era uno che voleva tenere il commissariamento della campania. Provate a immaginare in queste condizioni, se avessimo avuto il commissario, avremmo fatto la fine peggio che la Calabria, dove stanno facendo cose da pazzi i commissari di governo. E parla, e parla. Mi voglio fermare perché il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare, almeno per le prossime ore. Ho avuto modo di dire a qualche esponente del PD che se bisogna stare al governo con questi personaggi, per quello che mi riguarda, sarebbe meglio mandare a casa questo governo. perché non è tollerabile nessun rapporto di collaborazione quando vi sono nel governo ministri alla spadafora che ha raccontato bestialità non più di una settimana fa, o questo signore di cui ho fatto il nome. Ricordatevi che questo personaggio l'ho sfidato a un dibattito pubblico dove, come e quando vuole, da anni. Rinnovo il mio invito a questo soggetto a fare un dibattito pubblico dove, come e quando vuole, purché in diretta televisiva. Spero che non faccia il coniglio come ha fatto nei tre o quattro anni precedenti. Stesso invito rivolgo anche a qualche camorrologo di professione, ormai milionario, che però continua non solo a vestirsi come un carrettiere perché fa tendenza, ma continua a parlare di cose di cui non capisce niente. Anche a questo signore rivolgo l'invito dove e quando vuole a fare un dibattito sui temi della sanità campana. Allora, come vedete, siamo chiamati a lavorare in una condizione infame. Per quello che mi riguarda, fatti salvi tre o quattro ministri, questo non è un governo. Non voglio dirvi che cosa è. ma per quello che mi riguarda sarebbe cento volte meglio anziché avere dilettanti allo sbaraglio, avere un governo di unità nazionale, di persone competenti per bene, un governo del presidente che non produca il caos che è stato prodotto in Italia dall'opportunismo politico e dalle scelte sbagliate fatte dal governo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.